Secondo lei Giuseppe Conte sarà ancora il leader del Movimento 5 Stelle? Non c'è alcun dubbio. Io non credo a questo storytelling che cambino le leadership. Quello è un partito a immagine e somiglianza del leader. Grillo ha tantissime ragioni per continuare a sostenerlo e quindi non credo... A cosa si riferisce, scusi Di Maio, alle tantissime ragioni? Che ce ne sono tante, così tante che non le riesco ad elencare. Senta, lei è...